Quarto video, fine della vasca del vivo. In questo video vediamo le fasi finali della vasca del vivo. Ci siamo lasciati che avevamo praticamente le quattro pareti e il coperchio. Adesso dobbiamo andare a lavorare sul fondo. Quindi prendiamo la nostra bella vasca del vivo, la appoggiamo su un foglio di polistirene, un EPS espanso, per cominciare a fare tutte le lavorazioni. Ma vi ho preparato un piccolo schema così sarà ancora più facile per voi seguirlo. Dopo lo schema vedrete i video proprio della realizzazione fatti uno dietro l'altro. Andiamo quindi con lo schema. Qui ci troviamo sul nostro tavolo e abbiamo appoggiato il foglio di polistirene espanso. La prima cosa da fare è posizionare la vasca del vivo sopra. Il nostro portello, la parte diciamo dove si deve entrare per metterci le esche, deve stare sulla parte superiore. La prima cosa da fare è mettere del nastro di contenimento intorno alla vasca, perché all'interno dovremmo fare un piccolo strato di gomma siliconica, non tanto per far diventare la superficie liscia, ma per evitare che la resina vada a incollarsi direttamente sul polistirene. Mettere un nastro tutto intorno, un nastro carta è già una cosa più che sufficiente. Si fa una bella sigillatura e non esce la gomma siliconica. Quindi la prima cosa da fare è versare all'interno la gomma siliconica. Bisogna riuscire a coprire tutto il polistirene. Per questo vi consiglio di utilizzare una spatola in modo da togliere anche le bollicine. L'ideale è farlo in due fasi, anche una dietro l'altra. La prima si mette un po' di gomma siliconica e con una spatola si passa bene tutto intorno e si passa tutta la superficie, in modo da riempire tutti i vari pori del polistirene e far uscire tutte le bollicine. Subito dopo si fa un'altra gettata di gomma siliconica, in questo caso sarà quella che fa proprio la parte liscia. Come vedete rimarrà un gradino di 3 mm diciamo sul fondo della nostra vasca, più alto rispetto ai bordi esterni, ma per me questo è un vantaggio perché così non essendo appoggiato al pavimento della barca rimane un po' d'aria e sicuramente è meglio piuttosto che averla tutta la superficie appoggiata. Dopo la gomma siliconica si fanno i vari strati, come abbiamo fatto per le pareti. Quindi il basalto, si può metterci subito la resina, dopodiché ci mettiamo il termanto per farlo spessore, per dargli robustezza e dopodiché sopra di nuovo il basalto. Sono quei strati che abbiamo fatto sulle pareti della nostra vasca. In realtà in questo caso potremmo fare anche una cosa più sottile, cioè fare soltanto basalto, basta fare diciamo 4-5 strati e sarebbe già più che sufficiente. A questo punto ribaltiamo la vasca, quindi la togliamo dal polistirene EPS, la mettiamo su un lato e iniziamo a fare tutti i lati della vasca con l'RP700 colorata in azzurro per fare proprio la finitura interna della vasca. Quindi si parte con tutti i lati e per finire si fa anche il fondo. A questo punto abbiamo finito la vasca del vivo perché la parte superiore era già fatta prima e ci mancavano soltanto i lati e il fondo. Come vedete in questo modo la vasca è fatta. Se avete visto i video precedenti fare la stratificazione sul fondo e dopo fare la finitura sulle pareti capirete che è super veramente facile e veloce. L'unica accortezza per non avere bollicine sulle pareti interne che sono sempre antiestetiche è sempre bene usare l'autoclave per togliere tutte le bollicine. Ma adesso andiamo a vedere i video di tutte le fasi di lavorazione così riuscirete a vedere proprio i vari step. La prima cosa da fare è quindi è mettere lo scotch tutto intorno alla nostra vasca del vivo appoggiata sulla PS. Dopo dobbiamo preparare la gomma siliconica come abbiamo visto nei video precedenti. Ora non ho il video corrispondente proprio per questa fase. L'ho perso sul telefono in questo marasma di video che ho. Comunque la cosa è sempre quella. Come vedete io qui prima ho spatolato la superficie per togliere le bolle e dopo ci ho aggiunto sopra la gomma siliconica. Per il fondo della vasca potevamo anche evitare questi passaggi. Possiamo andare direttamente con la gomma siliconica perché anche se la superficie non viene perfetta non cambia assolutamente nulla. Sarà il sotto della vasca. La gomma siliconica serve esclusivamente a staccare le resine del fondo dall'EPS perché se noi non mettiamo la gomma siliconica questo si andrà a incollare e dopo sarà molto molto difficile togliere. Quindi mettiamo la gomma siliconica, la spalmiamo un po' con una spatola perciò che vada un po' dappertutto e lasciamo che si asciughi ovviamente. Avremo il fondo della vasca pronto per le successive lavorazioni che sarà semplicemente la fibra di basalto con la resina, resina sempre epoxi naturalmente e eventualmente anche il termanto se vogliamo fare la struttura sandwich come abbiamo fatto sulle pareti e di nuovo l'ultimo strato di resina. Dopo avremo finalmente finito la parte anche del fondo della vasca. Andiamo a vedere adesso il lavoro proprio sulla di posizionamento del basalto. Qui abbiamo messo ho messo il basalto ho cercato anche di risvoltarlo un po' sulle pareti in modo da dargli un'ulteriore resistenza. La stratificazione l'avevamo già vista anche sui video dei precedenti su delle altre vasche. L'importante è decidere che tipo di stratificazione fare. Come vi ho detto nel mio caso io ho scelto di passare direttamente a solo il basalto. Ho fatto circa 4-5 strati, bisogna avere l'accortezza di incrociare le fibre per avere il massimo della resistenza e le ho risvoltate verso su verso la vasca di circa 3-4 centimetri. Per me era più che sufficiente, non avevo da fare eventuali enormi sforzi sul fondo. Poi dal lato pratico ho visto che con questo sistema la resistenza è veramente molto alta, quindi non correte assolutamente nessun tipo di rischio. Fare il termanto all'interno può essere utile per il discorso della temperatura. Ci sarà meno scambio termico se avremo il termanto, fungerà più da borsa frigo, cioè l'acqua potrà essere tenuta più fresca d'estate, però in realtà essendo il fondo, il fondo della barca anche di solito è fresco se non batte il sole. Io ho tutte queste problematiche e non le ho trovate. Dopo aver resinato internamente, tolto lo scotch che abbiamo tutto intorno, che faceva prima da tappo, dobbiamo staccare la vasca dal nostro EPS, dal nostro foglio di polistirene estruso. Questo perché dovremmo andare a fare i getti fuori. Adesso qua faccio un po' di fatica perché tengo il telefono e anche devo muovere la vasca. Comunque si stacca praticamente la vasca dal nostro EPS. Adesso vedrete, un attimino, eccolo qua, la gomma siliconica. Come vedete anche quella si incolla perché il materiale è molto poroso, invece dalla resina si stacca immediatamente, non c'è nessun tipo di problema e questo è il risultato finale. Come vedete, praticamente si vede la stratificazione. Non è forse una bella finitura, ma non ha importanza in quanto questa è la parte sotto della vasca, quindi non si vede. E questa è la trama del basalto. Come vedete io ho utilizzato un monodirezionale, fatto più strati. Adesso dobbiamo iniziare invece a fare la finitura, quindi prendiamo l'RP700, Winter Rain, facciamo le giuste proporzioni, ci aggiungiamo anche il colorante, in questo caso il 6027, l'RP6027, mettiamo tutto nella nostra bacinella, mescoliamo, pesiamo e dopo andiamo nella camera a vuoto per togliere tutta l'aria, tutte le bollicine. Una volta che abbiamo il materiale pronto, possiamo andare a versarlo all'interno della nostra vasca e facciamo tutti i lati. Iniziamo proprio con le pareti. Ovviamente bisogna fare uno strato sufficiente per riempire completamente tutto. Si lascia ad asciugare perfettamente e il lavoro verrà perfetto perché con la tecnica Raising Plan sappiamo che alla fine la superficie viene completamente liscia. procediamo con le varie colate e andiamo avanti. Ovviamente bisogna raggiungere, come vi ho detto, uno spessore sufficiente a coprire tutte le varie sormonti del basalto, eccetera. Si inclina la vasca su tutti i lati e vedete qua dovevo ancora finire, ovviamente, e si continua sempre con la stessa procedura. Ovviamente tra un lato e l'altro bisogna aspettare che si asciughi perché se no cola tutto. Ovviamente l'RP ci mette veramente abbastanza da asciugare, quindi direi di lasciarlo almeno due giorni fermo. Alla fine si fa anche il fondo. Come vedete qua sto ancora facendo l'ultimo lato. Lo faccio più step perché nella mia camera vuoto non riesco a fare tutto in una volta. Lì sull'angolino è rimasto un po' di materiale fuori, ma non mi interessa. Questa è una vasca del vivo, quindi va benissimo anche così. E per ultimo vado a fare il fondo. Una volta fatto il fondo avrò finito la vasca. Ed eccoci qua. Gli ultimi lavori proprio. In questo caso andiamo a mettere le viti sulle cerniere. Abbiamo già fatti fuori per collegare il troppo pieno e il tubo di adduzione che è quello sotto, come avete visto. Farò un video in cui spiegherò esattamente perché ho fatto queste scelte, perché non ho fatto un tubo centrale, eccetera. Per me questo sistema è quello più comodo in assoluto. Ho messo delle cerniere a scomparsa, così non avrò neanche il problema dell'ingombro diciamo verticale. E questa qui è la barca dove vado a installare la vasca del vivo alla fine. Cerniere installate. E adesso la vasca è praticamente operativa. Ah, qui non avevo ancora fatto il fondo. È vero? Giusto? Perché il fondo l'ho fatto proprio in ultimo in ultimo. Avevo prima montato tutto. In realtà è stato fatto dopo, però insomma cambia poco. Si può fare prima o dopo. Ecco, qui ho fatto anche il fondo. È venuto uno specchio. Avevo quelle viti che vedete sono per dei supporti che ho messo sotto la vasca per alzarla. Considerate che con questo rivestimento durante l'estate, ho fatto veramente tanti test, si lava in un attimo. È talmente lucido e senza pori, che anche se è sporco di calamaro, di nero, non c'è nessun tipo di problema. E questo è uno dei primi utilizzi che ho fatto della vasca. Adesso rimanete ancora online. Qui ci sono i pesci. Stavamo con degli amici facendo una pesca in verticale. Abbiamo collaudato bene. Sono tutti vivi i pesci. Qui la vasca del vivo era in funzione fino a un attimo prima. Ho spento la pompa. Ma restate qui perché ci sono ancora delle cose importanti che vi devo dire. Questa vasca del vivo l'ho testata a lungo quest'estate. L'ho utilizzata veramente tanto sulla mia piccola barca, il piccolo Boston Weller. Funziona perfettamente e ha una caratteristica che le altre vasche del vivo non hanno. È il tipo di coperchio. Questo sistema, inventato da Francesco della Resinplan, è veramente stagno. Diventa in pratica veramente stagno. Vi faccio un esempio. Io spegnendo la pompa, chiaramente col portello aperto, l'acqua pian pianino scende ed esce. In questo caso, avendo questa struttura, questo sistema a piramide che diventa praticamente quasi, eh anzi, su misura. Cioè il portello è quello che fa da stampo per creare tutta la parte sopra e questo lo rende stagno. Se io spengo la pompa, si crea una depressione all'interno della vasca per il peso dell'acqua che vorrebbe andar via e non si riesce quasi aprire il portello. Si fa veramente fatica. E questo mi ha fatto venire in mente un ulteriore upgrade di questa vasca del vivo. In realtà gli upgrade saranno più di uno, ma questo è immediato ed è una cosa, secondo me, rivoluzionaria. Faremo lavorare la vasca del vivo in depressione invece che con l'adduzione dell'acqua con la pompa. Ma non voglio anticiparvi troppo. Farò un video specifico su questa cosa. Vi dico solo che in questo modo le esche staranno molto meglio, soprattutto in caso di mare mosso e i lunghi trasferimenti. Non ci saranno gli sballottamenti all'interno della vasca e questa è una cosa, secondo me, fondamentale. Insieme con quel video ci sarà anche il video sulle pompe giuste per la vasca del vivo, che non sono uguali tutte le pompe. Bisogna scegliere la pompa che abbia determinate caratteristiche e che sia anche di durata. Perché io ne ho provate tantissimo. All'inizio possono sembrare tutte buone, tutte validi e dopo nel giro di due anni, massimo tre anni, si riscontrano problemi, non funzionano più ed essere in vacanza con la pompa che ti si rompe non è assolutamente piacevole, anzi è una cosa che non auguro a nessuno. Iscrivetevi il canale, lasciate un like. Se avete bisogno dei materiali andate sul sito della Resinplan, vi lascio sotto il link. Li trovate tutti i prodotti che ho utilizzato per fare questa serie di video, questa vasca del vivo, ma ci saranno ancora altri video perché io ho prodotto tantissime cose quest'anno ma non ho avuto il tempo ancora di pubblicarle sul canale. Noi ci vediamo presto di nuovo qui per altre informazioni utili. Grazie ancora e ci vediamo. Ciao ragazzi.